Comunque è sempre bello, a prescindere da tutto, a prescindere dall'importanza della partita in sé, tornare a parlare di Juventus, di una partita della Juventus. È vero che fino a poco fa c'erano gli europei, la Coppa America e quant'altro, però effettivamente la squadra di club la senti in un modo particolarmente diverso. E non vedi l'ora di vederla l'azione nonostante due titolari in campo, nonostante una partita contro una squadra di Serie C come il Cesena. Un amichevole non inutile perché comunque in un qualche modo serve ad allegri, guai a definirle amichevoli inutili, soprattutto nel momento in cui veniamo da una stagione dove le amichevoli precampionato non ci sono proprio state e quindi non è avuto la possibilità di vedere qualcuno prima o di mettere semplicemente un pochino di minutaggio nelle gambe. Quindi inutili no, allo stesso tempo però come al solito lo sappiamo benissimo tutti quanti che a prescindere dal risultato queste partite vanno prese estremamente con le pinze anche perché appunto i ritiri, le prestagioni sono iniziate una decina di giorni fa quindi non si può pretendere assolutamente nulla soprattutto nel momento in cui poi scendi in campo con nove giocatori tra Under-23 e Primavera e solamente chi è che c'era? Becchenni fondamentalmente titolare, poi sì c'erano Rugani, De Sciglio, Perin però giocatori che se rimarranno alla Juventus, rimarranno alla Juventus come riserve quantomeno in partenza sperando che rimanga assolutamente così. Detto questo però è sempre bello rivedere appunto la Juventus e io queste partite le utilizzo soprattutto per vedere i giocatori di cui tanto mi si parla bene nel corso della stagione quando magari giocano in Primavera, in Under-23 così io queste partite qui le utilizzo per vederli effettivamente all'opera come per esempio Ranocchia, di Ranocchia si è sempre parlato tanto 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 bene tipo Romeone lo definisce già pronto, un giocatore che già potrebbe giocare in Serie A ed effettivamente ha dato la dimostrazione di essere un giocatore assolutamente valido considerando che comunque nel suo caso si è affrontato contro giocatori della sua stessa categoria perché Under-23 e Cesena Serie C quindi per molti è stato proprio un match amichevole, precampionato però contro una squadra che gioca comunque in Serie C quindi per qualcuno è proprio allenante ai fini dell'Under-23 e per esempio Ranocchia ma effettivamente stupito, mi è piaciuto parecchio considerando poi che io appunto non seguendo l'Under-23 non ho mai visto poi realmente all'azione ed un altro che mi è piaciuto veramente tanto è Solè, non so onestamente come si pronunci, il ragazzo che tra l'altro ha trovato il gol del 3-1 in modo un pochino fortunoso e si vede che quello lì ha delle qualità abbastanza importanti, 2003 se non sbaglio ma non penso di ricordarmi male solo che lì Purino è che se Ranocchia magari se la può giocare vedendo la Moria che c'è lì a centrocampo ecco già se uno fa l'ala destra, esterno destro, lui ha giocato alla destra oggi quindi presumo sia un'ala a tutti gli effetti anche insomma nelle categorie inferiori, lì comunque se la giocherebbe con i vari Chiesa, Kuluseschi presumibilmente quadrado lì è un pochino più difficile la situazione, mentre invece già Ranocchia se la potrebbe giocare un pochino di più in ottica a qualche apparizione in prima squadra, poi ovviamente anche qui vedremo che cosa deciderà di fare Allegri perché oggi mi sa che ha cambiato modulo 2-3 volte nel corso dei 90 minuti in base anche a chi giustamente entrava in campo assolutamente alla fine c'è a disposizione solamente giocatori che giocano in un certo ruolo di conseguenza poi nel momento in cui li devi buttare in mezzo per forza di cose ogni tanto ci può stare che per 5-10 minuti cambi anche un attimino modulo, tanto meno male questi amichevoli sono un pochettino così la cosa anche che mi ha stupito veramente tanto ragazzuoli poi anche in questo caso e fino a se stessa è assolutamente però ci sta esaltare gli aspetti positivi e quelli negativi, minchia è stato piazza cioè veramente abbiamo giocato in 10 con piazza, io mi auguro che nessuno del Torino abbia visto questa partita amichevole della Juventus perché negli ultimi giorni si era parlato di un interessamento del Torino per piazza solo che c'erano i dubbi legati alla condizione fisica, oggettivamente io li capisco un pochettino però mi auguro che non si basino anche loro su questa amichevole così la prima la prima sgambata stagionale non penso no ci sia da fare dei giudizi nel merito però a parte tutto minchia vedevi piazza sembra veramente il cugino scemo di quello che era arrivato nel 2016 poi Purino lo sappiamo tutti quanti la sfiga che ha avuto negli ultimi anni, gli sono partiti cos'è due crociati Tibi e Perone che cos'è che gli era partito e quindi un pochino tutto è stato compromesso però boia di fagiolini sembra un boiler dell'acqua calda poi come al solito è sempre un onore vedere Rugani con la fascia da capitano con De Sciglio vice capitano ma questo bene o male ormai lo sappiamo tutti quanti e probabilmente capiterà nel corso della stagione di vedere scene del genere al netto di offerte per i rispettivi giocatori che sensazione mia non arriveranno ma spero ovviamente di sbagliarmi è anche bello è stato bello più che altro tornare a vedere McKennie in gol cosa che siamo stati abituati a vedere verso l'inizio della scorsa stagione salvo poi bloccarsi completamente oggi l'abbiamo visto ritornare a segnare poi giustamente fasciatura perché comunque insomma bisogna sempre mettere la chiesa al centro del villaggio e poi vabbè ragazzuoli niente è semplicemente bello per me tornare a rivedere la Juventus con qualche giocatore che mi stupisce con i soliti che dici di boh ancora sono qui però purtroppo che cosa devi fare nulla la situazione questa è e ci accontentiamo una piccola nota di merito penso sia doveroso farla nei confronti di fagioli fra botte e di pardo che voglio dire alla fine della fiera non sono stati neanche convocati per motivi disciplinari perché hanno fatto un ritardo e io di di fra botta non me ne frega nulla perché presumibilmente saranno gli ultimi giorni da giocatore della Juventus e va benissimo così con tutto il bene non si è dimostrato all'altezza e ok va bene tanti saluti vai all'atalanta che l'anno prossimo varrà i 55 milioni ma di questo ne sono assolutamente consapevole di pardo ok anche lui mi tocca veramente fino a un certo punto però boia dei fagiolini fagioli cioè te che tre quarti di tifosiera Juventina e da probabilmente febbraio che ti sbocchina nonostante tutto inspiegabilmente hai la possibilità di partire titolare con a fianco mccenni quindi può essere una situazione che potrebbe ogni tanto no vedersi nell'arco della stagione hai la possibilità di metterti in mostra di fronte ad allegri di fronte a tutti i tifosi perché comunque allegri era uno che tre quattro anni fa spendeva bellissime parole nei confronti di fagioli adesso anche che ha un'età interessante che potrebbe no effettivamente risultare realmente utile alla prima squadra della Juventus voglio dire fai ritardo il giorno della prima amichevole stagionale che ti poteva dare la possibilità di metterti un attimino in mostra con tutto il bene del mondo non sei una cima voglio dire no potevi già sin da subito probabilmente recuperare qualche posizione in gerarchia per quanto riguarda i centrocampisti vedendo le belle parole che ha sempre speso nei tuoi confronti le tue qualità la tua età e invece nulla ritardo e va bene così quelli poi sono problemi loro che risolveranno loro poi nulla non so onestamente se parlerò anche di del trofeo berlusconi della partita contro il monza e del trofeo gamper contro il barcellona non per cattiveria però capitemi alla fine ho vent'anni anch'io e se le partite sono alle 6 è sempre un piacere se le partite iniziano ad essere alle 9 9 e mezza di sabato viene un pochino più difficile soprattutto poi se vivi in riviera capiamoci detto questo nulla è stato comunque un piacere io vi mando un grosso abbraccio tanto per cambiare fino alla fine forza Juve